Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, eccoci qui nuovamente sul canale per un secondo contenuto di giornata, secondo contenuto che non può non trattare l'argomento del pomeriggio, attualità purissima, notizia clamorosa e quindi titolo del contenuto Clamoroso Pogba. Prima di svilupparlo insieme, io come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e l'invito ovviamente è rimarcato tutte le volte perché la community deve crescere, dovete iscrivervi se non lo siete, ovviamente se vi fa piacere, a me tantissimo, è anche fondamentale per sostenere il canale, azionando poi la campanella delle notifiche per tutti i contenuti che usciranno su questa piattaforma e in fondo alla puntata un bel pollicione verso l'alto e poi commentate, mi raccomando commentate sempre con la massima educazione perché a volte mi scrivete, hai letto il mio messaggio, io ti ho scritto di qua e di là, non lo leggo, no perché c'è un filtro che determinate parole ritenute offensive vanno in blocco in automatico quindi io non me ne rendo conto se voi mi avete scritto e ovviamente quello non lo posso leggere né rispondervi, ma commentate mi raccomando perché questa notizia ha del clamoroso, è notizia di oggi, pomeriggio quindi di pochi veramente poche pochissime ore fa, Pol Popa sarebbe risultato positivo al testosterone e quindi positivo al doping nella gara, subito dopo la gara, Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto. Bisogna andare con i piedi di piombo, allora la notizia è clamorosa, ovviamente Pol Popa è stato sospeso in via cautelare, avrà tre giorni di tempo per chiedere le controanalisi, per capire la realtà di questa situazione, attendiamo perché a breve può darsi anche nel momento in cui io vi stia parlando, quindi nel momento in cui sono inregistrata, prima di pubblicare il contenuto la Juventus abbia già emesso il comunicato ufficiale sulla propria posizione e sulla situazione relativa a Pol Popa, ma al di là di questo attendiamo veramente e andiamo un attimino con i piedi di piombo le controanalisi e capire un pochino la situazione. Si parla nell'informativa letta attraverso il Corriere della Sera, almeno io personalmente l'ho preso il Corriere della Sera, si tratta di tracce di testosterone. Cosa significa tracce di testosterone? Beh, può significare tutto o un po' meno di tutto, niente no, perché se ci sono ovviamente qualcosa c'è. Ora, il testosterone è un ormone per antonomasia degli uomini, può essere implementato, aumentato, attraverso situazioni indotte, oppure anche attraverso una sana e corretta alimentazione, un'intensità fisica magari fuori dalla norma. Pertanto queste tracce di testosterone, anche se queste situazioni magari si sviluppano più nella fase della crescita, della dello sviluppo della persona. Però io non sono medico, non voglio vendere realtà certe, verità in tasca. Dico soltanto, attendiamo un pochino di capire bene la situazione, perché tracce di testosterone potrebbe anche essere, tenere appunto in considerazione queste situazioni che vi ho appena descritto. È ovvio che queste tracce di testosterone possono anche essere dipendenti magari da infiltrazioni o da medicinali somministrati. Ricordiamo che Paul Pogba esce da una situazione difficile, quella post intervento al ginocchio, quella relativa alla stagione scorsa che ce l'ha tolto per tutta la stagione, fondamentalmente dalla disponibilità al gruppo, intervento al ginocchio, una difficile ripresa, infortunio ricaduta, insomma infortuni muscolari. E quindi non è da escludere che attraverso il programma sostenuto da Paul Pogba di una riduzione della massa muscolare, di una reatletizzazione, chissà, qualcosa possa anche essere stato somministrato, oppure possa essere stato preso in maniera inadeguata, in maniera inavvertita. Beh, questo lo reputo abbastanza difficile conoscendo quelli che sono un po' tutti quanti i crismi all'interno di società professionistiche, figuriamoci in un club importante come la Juventus. È ovvio e va da sé che una volta attesa la conferma della situazione, ovviamente ci sarebbe da augurarsi che tutto questo caschi in una bolla di sapone, le controanalisi diano esito negativo o quantomeno venga scongiurata la volontà di doparsi perché tracce determinate da un'intensa attività fisica. La butto lì e sia chiaro. Ma qualora non dovesse essere è ovvio che per la Juventus sarebbe un danno d'immagine tremendo, sarebbe un danno economico pazzesco perché ribadisco il giocatore adesso è sospeso in via cautelare in attesa di conoscere l'esito delle contronasi, in attesa degli sviluppi del caso, attendiamo il comunicato che cosa ci dirà, però è evidente che qualora fosse confermata la positività al doping intanto il giocatore rischierebbe fino a quattro anni di squalifica, ma tutto questo comporterebbe immagino perché nei contratti, in quei tipi di contratti sicuramente c'è una clausola che comporterebbe la rescissione immediata del vincolo tra la Juventus e Pogba e questo da un certo punto di vista permetterebbe alla Juve di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, ma non sarebbe certamente una notizia positiva perché è ovvio che la Juve abbia fatto grande affidamento sul ritorno di Pogba, che facesse grande affidamento su Pogba anche per la crescita del centrocampo in questa stagione, seppur magari in maniera centellinata è evidente che se tutto questo sarà confermato sarà un danno oltre che tecnico anche economico da un punto di vista dell'immagine. Da un punto di vista del risparmio sarebbe tanta roba quello che la Juve cercava in maniera indiscriminata nel corso di questo mercato di piazzare gli esuberi, ma è ovvio che non ci sarebbe mai aspettati che tutto questo potesse arrivare da una notizia così clamorosa, quindi della positività al doping per tracce di testosterone in Paul Pogba. Giocatore sicuramente sfortunato da un certo punto di vista, ritorno alla Juve che non possiamo definire invece propriamente sfortunato, lo possiamo definire come va definito ad oggi un fallimento clamoroso, ad oggi un fallimento clamoroso, perché purtroppo al di là della scelta assurda, lo definiamo a posteriori, ma io la definivo assurda da profano anche all'epoca, quella della terapia conservativa che non portò a nulla, che portò poi a perdere tutta quanto la stagione scorsa a Paul Pogba, la Juve purtroppo si è trovata un giocatore a bilancio senza poterne mai usufruire delle prestazioni sportive, un bilancio che si è un po' incrinato verso il negativo proprio anche attraverso certe operazioni e questa purtroppo non ha dato i frutti sperati e anzi ha portato a quanto ci è dato a vedere oggi, sino ad oggi perlomeno, un nulla, un nulla di fatto, con l'aggravante che invece c'è questa notizia che cade sulla testa di Paul Pogba, positivo al doping, lo ribadisco dopo Udinese-Juventus del 20 di agosto, tracce di testosterone, attendiamo comunicati ufficiali di capire la posizione del giocatore, perché poi molto probabilmente potrebbe esserci anche un comunicato dell'entourage del giocatore a far capire la posizione del francese, la speranza è che tutto questo possa risolversi davvero in una bolla di sapone, in un nulla di fatto, che ci siano le controanalisi che diano esito negativo, perché è quello che fa eventualmente sperare proprio queste tracce, quindi non si parla di positività, come dire, conclamata, è certo una positività perché anche solo le tracce fanno la positività, però magari potrebbe essere che le controanalisi diano esito negativo, attendiamo, veramente ci vuole un pizzico di pazienza, non si può arrivare subito al dunque, subito a insultare il giocatore, a tutto quello che è stato, che lo sta circondando, anche se capisco la delusione, la mia è la prima grande delusione da tifoso della Juve, ma anche di Paul Pogba, però ecco, andiamoci un attimino con i piedi di pombo, attendiamo situazioni, diciamo, definitive. Ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine, forza Juve, ciao!